Ok, saltiamo tutto perchè siamo molto molto trasgressivi, molto molto iea Ma comunque, salve a tutti ragazzi qui a Charlie Parle e benvenuti nuovamente su Pokémon Verde Foglia Sì, nuovamente perchè come ben sapete avevo già una volta deciso di iniziare il let's play a Verde Foglia Che mi piace tanto tanto tanto, quasi quanto... non so, vabbè comunque Ma che avevo miseramente abbandonato perchè... perchè è un misteri della vita Ma stavolta vorrei comunque portarlo a termine perchè... cioè penso di portarlo a termine perchè... no, ti ho detto di no, non lo voglio vedere Ma che... perchè... ho capito, facciamo... non mi ricordo più i tasti, oddio... ok Vabbè, le spiegazioni le saltiamo tutte Ah no, ok, questo... stavo dicendo perchè comunque... non collezionando più... vorrei più o meno... cioè voglio continuare... Ehm... a fare video sul mio canale, no? E quindi... mi sembra abbastanza logico cominciare comunque a fare... Ehm... a buttarmi di più sul... gioco... pokemon, ecco... più o meno ci siamo, sì... Ehm... va bene... Ehm... niente a dire di cominciare così molto... yeah... vabbè qua... sì... il professore Hawk Ehm... ciao ti trovo in mondo dei pokemon, mi chiamo Hawk... ti trovo di... Facciamo un nitoran Ehm... ah sì, vabbè, gli altri... ehm... il video del precedente let's play a verde foglia penso che li metterò... o privati o non elencati... ma non li voglio eliminare, no? Ehm... informazione importantissima... caricherò... ehm... un video ogni volta che... ehm... il video precedente, ovviamente del let's play, supererà le... 500 visualizzazioni, perchè sinceramente se vedo che... non è tanto seguito non... non ha assolutamente senso, ehm... quindi... vabbè comunque... ehm... altri li sono per lottare... in quanto a me... ehm... lo studio dei po'... sì... tutti così... di tutto parlami un po' di te... sei un bimbo o una bimba? sono sota... ehm... se lo dice... un bimbo... ok... ma non sono... dimmi come ti chiami... Salvini... Salvini... sì... mi chiamerò Salvini... oddio lo sto scrivendo davvero... ma ci entra vero? sì... Salv... no... è una U questa... eh... attenzione... no... vabbè... Salv... è preciso! Salvini... wow... bene... là ti chiami Salvini... sì... Ok... questa è mia nipote... da sempre il tuo rivale... mmm... eh... qua se l'ho tentato da... lo chiamiamo Renzi... vai... figo Renzi... Matteo Renzi... Matteo Renzi... Matteo Renzi... figo Renzi... Eh... riferimenti espliciti... bello fi... ehm... fine sì... Renzi per caso... sì... è lui... sì sì... lo ricordo... si chiama Renzi... oh... Salvini... Ok... cosa... cosa cavolo sto facendo... sei per essere protagonista di una grande storia nel mondo dei Pokémon... oh mio Dio... andiamo... ti aspetta un mondo di avventù... e di immigrati puoi... Eccolo il giovane Salvini all'opera... La sua PlayStation... Non c'era uno stemma Padania Libre... eh no... non c'era lo stemma Padania Libre... Un biglietto a peso... c'è scritto Padania Libre... no... Hey mother... Mother... Bene... prima o poi tutti i ragazzi volano via di casa... eh... lo dice anche la TV... eh... il nostro vicino e proprio ti sta cercando... Ci devo andare... Eccoci a Biancavilla... In realtà ci troviamo in luogo sperduto... del Veneto... Ovviamente non ho niente contro... cioè no contro i leghisti magari sì ma... Non ho niente contro chi abita in Veneto comunque... Cosa del genere... non comincio da prendermi tipo per razzista o... Hey tu vuoi fare parte della Lega? No... Oh guarda... Wow... premi start per lì il menù... Hey attenzione... Questo lo conosco... Eh sì... Eh ma qua la tratta degli schiavi... manco un nome... Laboratorio è troppo... Ok ma prima andiamo un po' a derubare per le case... Qua arriva qualcuno... Ah è arrivato... Ah vero io non dovevo... Giusto... No... ci sei... oddio dove ci porto... aiuto... No no... voglio parlare con gli altri... Renzi... nonno... non ne posso più... Renzi... fammi pensare... Guarda Salvini... Guarda Salvini... Eh ride pure lui... Eh sì... Allora... Cioè... Dobbio prendere Bulbasaur... Eh... Dico... Rappresenta... Padania un po'... Eh... È solo che... Charmendermi attira troppo... Ma no... Prendiamo Bulbasaur perché non lo prenda nessuno... E poi Salvini e Salvini... Sì... Prendiamo Bulbasaur... Eppure... Un sopranoio da reale... Lo chiamiamo Padani... No... No dai... Eh... Eh... Sì vabbè... Eh... E come lo chiamiamo... No... Lo chiamiamo e facciamo prima... Ok... 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 Perché mi va... Leggermente a merda... Eh... Ok... Oddio... Renzi si prende Charizard... Eh ma... Eh... Charizard... Eh... Renzi mi sa che è più potente... Ok... Mi racca un bordello... C'ho Camtasia che... Aspetta Salvini... Proviamo questi Pokémon... Coraggio distinto... Cioè ma... Ma vi immaginate voi tipo... Salvini e Renzi che si sfidano qui... Sì ma lui c'è Charmander... Non vale... Salvini è la tua prima lotta vero... Eh no... Le introduzioni no... No... Ok... Prova a lottare... Azione... Puff... Vai... 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 Non puoi morire... Cazzo... Cazzo... E... E... No... Salvini deve pagare... Eh... Eh... Stavolta paga... Non ho... Ah... Visto che no... Sì sì... Sempre raccomandato Salvini... Sì va bene... Oh no... Ci vediamo dopo... Ok andiamo a parlare con questi tizi... Ok... Ciao... Ehi tu... Ti offro come... Ti assumo come volantinista... Volantinaria... Veterinaria... Ma che c'è... Ah... Qua ci... C'è... Stanno succedendo cose... Alquanto stranissime in questo computer... Vabbè... Va bene dopo ti do i volantini a te... E... E mi fai propaganda... Va bravo... Buono a sapersi... Weiii... Dobbiamo andare a rapinare questa casa... Ehi salve... Margi... Salvini... Ho sentito che ero tutto contro Renzi... E tu da che parte stai? Eh ma... Devi dirmi da che parte stai... Oh... Oh... Ruspa... Ecco... Eh ok... Un Pokémon lo chiamerò Ruspa... Ok allora... Il primo Pokémon che catturo lo chiamo Ruspa... Ok la nostra madre che nemmeno ci caga... Ferma sempre qui... Ma cosa mi devo riposare? Ma vabbè... Ma... 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 Io ho percorso One... Ok io devo stare pure attento un poco al tempo... C'è che ho un PJ... Attenzione! No se mi uccide di nuovo... Io... Vai Salvini... Ok... Lo devo fare salire almeno... Aspetta... No... Lo devo fare salire almeno più il livello... aiuto ok ecco a cosa serve la mamma abbiamo scoperto ok benissimo grazie madre salvin oh sti pg pg lo chiamo il primo pokemon che catturo lo chiamo yeah saliamo a livello 6 mamma mi servi di nuovo tu eccola brava grazie perché andiamo un po' all'avventura adesso perché si da ah tu si va bene eh grazie pozzino ah quagg no no non voglio più lottare con i pg prima devo fare qualcosa eh ciao ah si davvero wow grazie oh ratatatatata no ratatatatatata bravissimo pulbasauro si vede che ti sei allenato duramente in padani no pg no abbiamo paura di pg smerdo eh smerdo i believe i canfred dove sono i miei tanti bolts salve ehi tu eeeh no non ci sono anche i pokemon eh si andiamo di qui no sto scherzando smerdo eterno paradiso ah e questa è la sede della lego eterno paradiso verde non so più di così no 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 c'è rimasto male secondo me eh il market dico se mi mi danno eh si è arrivato a bianco eh si mi diceva il pacco ah si adesso io lo dobbiamo ridare però prima giriamoci paradiso verde ma questa c'è una scuola tutta per lei ah si la lavagna indica lo stato Francia Germania tutti quelli dell'eurozone wow attenzione percorso one eh io salto le sbarre mi chiamano eh un altro ok catturo il primo pokemon eh poi e poi stacco stacca stacca stacco attento forse ci stanno tracciando ci stanno tracciando stacca stacca si ho qualcosa per te no no perchè mi hai fatto ehi ah si dove adesso ci da il pokédex registra tutti politici salvinici per il pokédex per tenere più dettagli su poké non basta vederli devi catturare usa questa per catturare quelli selvagrici oh abbiamo cinque pokéball attenzione si va bene ma è troppo vecchio quindi ci sfrutta sfrutta il lavoro minori nooo ah da tua sorella e io prenderò un'altra cosa e io prenderò un'altra cosa e aiuto la sorella vieni qui dove ah quindi questa è la sorella di attenzione che qua ti scoprono cos'è eeeh la sorella e prenderò qualcosa ma vabbè adesso ciò che aprire la mappa city eh si riposiamoci perché è sempre bene e andiamo a catturare il ruspa già lo sento dove dove eccolo qui il ruspa è lui il ruspa si non mi interessa di 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 chi sia e lo catturiamo attenzione preso vai quando attacca un reddutto piccolo e veloce si vede comunemente in molti gol e chi meglio di lui può essere chiamato ruspa r u spa eppure farei tipo ruspa 1 ruspa 2 ruspa 3 ruspa vediamo se c'è più di squadra ruspa oh eccolo qui mamma mia ruspa di bello 2 eeeh vabbè benissimo ragazzi direi che per questa prima parte può bastare c'abbiamo il nostro bel vulvasauro che rappresenta tutta la padania e poi c'abbiamo il ruspa che rappresenta tutto il salvini eeeh e niente direi che per questo video è tutto mi raccomando lasciate un bel like supportate il mio salvini questo qui non quello vero per favore eeeh e vabbè niente mi raccomando seguite lasciate un like visualizzate e tante belle cose alla prossima da charmo ciao 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 Grazie a tutti.